No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no si sono scoraggiati si sono scoraggiati si sono già scoraggiati si sono già scoraggiati si sono già scoraggiati chi è il nostro chi è il nostro guarda lì giusto un altro quello ci potrebbe risalvare ci potrebbe ritirare si fa in 3 giorni poi un ottimo primo tempo dai fraco dai simone dai po' la voce lo infanno girare va tutta così dai via via bene via via Giovanni bravo Giovanni dai spalla e spalla arbitro dai dai vai a Triano arrivi a Triano arrivi a Triano lascia lo sentito io da qua 3 giocatori lì da me 8 giocatori dai perci parti parti vai vai se c'è la nostra posizione dai spalla certo cavolo e pallo bravo dai guardi fuori gioco fuori gioco roberto roberto che succede? che succede? stanno la politica hanno lì allenatore che succede? ha detto qualcosa ha detto che stanno che stanno avviate trova qua è difficile conoscendo la stanza dai tu bravi bravi dai bravi dai ragazzi c'è una partita non si voglio dire tra le partite più corrette il nostro si ha calore ah si dai 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 via 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.